Ss, ss, ss. Ss, 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 ss. Se lo fate vengono una piccola caramela, se non lo fate... No, fate il scherzo, se lo fate veramente tanto, 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 almeno così, ci fanno lo stesso qui, 7,50 euro al mese e niente ragazzi. Chi deve sapere che domani io lo regalzo per farci la pubblica pericare. Grazie a tutti. 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 Un fortissimo applauso per Francesca. Eccola, eccola. E' un altro applauso per Tina. Martina. E' un fortissimo applauso per Martina. E' un fortissimo applauso per Martina. Anche lei è arrivata avanti che si butta sul palco. Un fortissimo applauso per Chloe. E' un fortissimo applauso per Chloe. E' un fortissimo applauso per la prima. E' un fortissimo applauso per la prima. E' un fortissimo applauso per per la prima. E' un fortissimo applauso per noi. E' un fortissimo applauso per chiudere la prima. Siamo ragazzi. Sì, sì, siamo, no? Oh, yeah! Oh, yeah! Ok, guarda, qui suono che c'è qualcosa? Ok, guarda Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.